Ultimamente sono stato tirato in ballo, ma come amministrazione è ovvio, per una serie di argomenti che mi obbligano a rispondere, controvoglia devo dire. Si va dal concorso da ingegnere al polo scolastico, all'adesione ASMEL, a tutti i vari provvedimenti più o meno gli ultimi, sono stati criticati aspremente. Per di più sono stato pure catechizzato e mi hanno indicato quali erano le mie competenze in qualità di commissario. Quando il ministro Salvini mi ha dato l'incarico, credo che non è che me l'abbia dato per venire a svuotare i cestini o ad imbalzamare il comune. Quindi io la vedo in un'altra maniera. Sempre riprendendo il discorso delle critiche, devo fare riferimento anche a un personaggio che è vissuto ben cinque anni con un grosso incarico presso l'amministrazione comunale, il quale mi ha criticato su delle cose che io da semplice cittadino potrei dire ma perché non le ha fatte lui, questo personaggio, durante il suo incarico? Che cosa ha fatto allora in quei cinque anni, oltre a scaldare la sedia e temperare le matite? Colgo l'occasione invece per parlare anche ai cittadini di Giulianova, dove vorrei rassicurarli che ogni mia azione, ogni mio provvedimento è dettato nell'interesse della collettività e nella consapevolezza piena e assoluta che tutto ciò che faccio lo faccio senza nessuna forma di pregiudizio e soprattutto nessun interesse privato. Posso sbagliare? Senza dubbio. Questo è ovvio, è umano sbagliare. Però in tema di delibere comunali basta impugnarle, aprire il portafoglio e fare il ricorso.